Se hai deciso di smettere col fumo, hai già iniziato a vincere. Certo, sai che non è facile. Per questo, lasciati aiutare. Chiba Gaigi ha creato nicotinelle, i gerotti a dosaggio decrescente, che rilasciano nicotine. Cominci dal più grande, per passare poi ai più piccoli. Quando lo metti, fumare non ti piace più. Ed è più facile smettere. Nicotinelle. Lo metti. È più facile smettere. Leggere le avvertenze con riguardo particolare alle controindicazioni.